I servizi di sicurezza sono pronti a rivoltare gli Stati Uniti come un calzino fino a quando non sarà identificata la fonte che ha fatto trapelare documenti classificati del Pentagono. Lo riferisce il segretario alla difesa, Austin, a proposito di almeno due funghi di notizie, forse non le uniche. Potrebbero esserci altri documenti svelati in precedenza. L'ultima tempesta investe i piani per l'Ucraina e altri delicati dossier. Alcune informazioni circolate innanzitutto su una piattaforma di social media sono state bollate come falsificate dai diretti interessati, ma evidentemente non è bastato a placare le polemiche.